Il Couto 20 Nadal, il cartellino giallo Ferrer Aspetta la palla Stoichkov Adesso Ed eccolo Ronaldo La grinta di Padalino Ronaldo Sì la panchina viola è saltata tutta in piedi Quando hanno tirato Battistuta proprio davanti alla nostra postazione Chiedendo l'ammunizione per Nadal Tra l'altro i diffidati del Barcellona sono 5 Abelardo, Amor, Popescu, Stoichkov Amor Ecco Ronaldo Ronaldo va a cercare il duello con Cusceddu Numero di Ronaldo con il destro Poi apertura molto larga Palla Fiorentina E questo scambio di posizione significa Mandare fuori Ronaldo dalla morsa a Moruso Padalino Quella eventualmente di Cois Portarlo in una fascia che ripeto per il momento Prova tocco di classe Padalino Forse non era il caso in quella posizione Poi Ronaldo Lanciato da Figo Ma c'è fuori gioco Inutile questo pallonette per Ronaldo Naturalmente fondamentale in questi casi E rivediamo la tappica In questa Coppa delle Coppe Ora Ronaldo Ha saltato a Moruso Ronaldo Il boato del Camp Nou Ronaldo E mandare in crisi con la sua velocità La difesa centrale del Barcellona Che non è molto rapida Ronaldo Intervento di Padalino Il re di lunga staticità in questa partita Fasi quasi di abulia direi Più che di stanchezza Ma che sa provare In un posto Fuscedo Poi Padalino Ronaldo Numero su Padalino Che ferma Ronaldo Ferrer Ronaldo Con decisione Cois Guadagna 3 miliardi e mezzo di lire a stagione Più 2 milioni di dollari Per inseguire Cois Ronaldo Fuscedo Intanto ogni punto è anche un po' fortunato Poi Ronaldo Trattenuto da Serena Anzi da Batistuta Eccolo qui Batistuta Avvio di gara Meno male che ha adoperato lo stesso metro Dell'intervento di prima di Amor Perché se no era munizione anche questa Eh si Batistuta Con la mano sinistra Trattenuto Ronaldo Rivediamo l'attacco di Batistuta Batistuta tiene Per un attimo Ronaldo Saltare L'importantissima Questa è tutta tuffata ai bordi al capo Il Vido Lanino Terzo Hitchkov Che di sinistro Raggiunge Ronaldo Figu Recentialmente Ronaldo Rui Costa Poi Padalino Un attimo prima Si accentra Ronaldo Ronaldo Palla sul sinistro Ronaldo Fuori 2-3 metri Ronaldo Simo che sa scalare delle marce Quindi ritrovare la lucidità E anche il passo al momento del tiro Quindi un giocatore che riesce a non farsi prendere dalla precipitazione E a tirare in porta Spera Ronaldo Sul filo del fallo laterale Si può giocare Dice il collaboratore di Heinemann Toldo A Padalino Nell'insistere nel dribbling Giovanni Poi Ronaldo 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 fra tre avversari L'impatto Gie che non Puscedo sta attraversando un grande momento Soprattutto gioca stabilmente il campionato Con i suoi problemi con Stigo Ronaldo Cede Ronaldo Palla sul destro per Stigo Il cross Ronaldo Perfetto lo stop Il numero di Ronaldo Che va giù Couto Verso Vitor Bahia Rivediamo intanto Direi che è entrato su qualche maniera Di tenerli lontano dalla porta È questo Ronaldo Vai pure per Isla